Il presidente della giunta regionale Marco Marsilio, con comunicazione al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, ha assegnato nei giorni scorsi 62 milioni di euro come prima annualità ai comuni fuori cratere per far fronte alle emergenze del maltempo del 2017. A giovare di questa opportunità sono stati due i comuni dell'area Vestina, Penne e Civitella Casanova. Il comune guidato da Mario Semproni, che ricorderete si fece carico di ospitare il centro operativo dei soccorsi per l'emergenza di Rigopiano, vedrà finanziato tre interventi. La strada comunale di Contrada Colle Maggio, a cui sono stati destinati circa 1 milione e 200 mila euro. La strada comunale di Contrada Domera, per una somma pari a circa 650 mila euro. E la riqualificazione del palazzetto dello sport di Contrada Campetto, dove anche qui sono stati destinati 650 mila euro. Per la ricostruzione della pista ciclopedonale, la realizzazione del nuovo manto stradale, la messa in sicurezza degli impianti, palatenda e palasport, l'installazione della segnaletica orizzontale e verticale, nonché la sistemazione di arredi e del verde. E' solo una prima tranche di finanziamenti, ha detto attraverso il canale ufficiale Facebook del comune il presidente del consiglio comunale e delegato alla protezione civile Antonio Baldacchini. Altri interventi saranno inseriti successivamente, come la realizzazione di una nuova strada a Collalto e il rifacimento della viabilità in Contrada Flagnano e Rocca Finadamo. I lavori dovranno essere appaltati entro la fine dell'estate, per non vedere persi i finanziamenti assegnati. Per quanto riguarda invece il comune di Civitella-Casanova, la regione Abruzzo ha stanziato circa 2 milioni di euro per la messa in sicurezza di due frane che interessavano il paese in maniera importante. 800 mila euro per il dissesto idrogeologico di via Fratelli Granchelli, versante nord, e circa 1 milione e 200 mila euro per capoluogo, versante orientale. Buone notizie anche per gli altri anni a seguire, come annunciato anche dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Infatti a questa prima annualità ne seguiranno altre due, fino ad arrivare ad un totale di 202 milioni di euro stanziati per i comuni della nostra regione.